Al momento dovrà restare agli arresti domiciliari l'autista dello scuolabus e operaio del comune di Cisano sul Neva nell'entroterra di Albenga arrestato dai carabinieri di Alassio con l'accusa di peculato e truffa ai danni dello Stato. L'uomo in particolare è accusato di essersi allontanato dal lavoro con il mezzo di servizio. Stamane al termine dell'interrogatorio il giudice Alessia Ceccardi, nonostante l'accusato abbia risposto alle domande del GIP, ha deciso di mantenere il provvedimento restrittivo della libertà in quanto ha giudicato le risposte poco convincenti. Secondo l'accusa sostenuta dal PM Cristiana Buttiglione, il dipendente si assentava con l'auto di servizio con il pulmino dal lavoro anche per andare a giocare all'otto. Il comune, che ha deciso di avvalersi di un legale, ha avviato un procedimento di sospensione nei confronti del lavoratore.